Vacciniamoci per non dover più rinunciare a studiare e crescere insieme. E se smettessero di portare? Non lo faranno. E se lo facessero? Vacciniamoci per non dover più rinunciare nemmeno al cinema, insieme. Vacciniamoci per non rinunciare più alla gioia di tifare e giocare insieme. Vacciniamoci per non dover rinunciare più a festeggiare i momenti importanti insieme. Vacciniamoci per non dover più rinunciare più alla gioia di tifare e giocare insieme. Vacciniamoci per non dover più rinunciare più alla gioia di tifare e giocare insieme.